Parliamo della manifestazione di oggi relativa all'istruzione. Quali sono state le vostre iniziative e cose che non vi garba in tutto questo pacchetto? Noi abbiamo fatto un'iniziativa in Consiglio regionale sostenendo quella che è la protesta che viene fatta fuori. Non parliamo di una riforma, ma parliamo di una riformina che serve solo a dare potere a qualche preside che diventa manager, dinomina e poco altro sostanzialmente. Non vengono stabilizzati precari come era stato promesso a più riprese, non ci sono interventi seri e strutturali sull'edilizia scolastica. Abbiamo visto che in molti posti del paese le scuole iniziano a crollare, a perdere dei pezzi e quindi non viene fatta né manutenzione ordinaria né straordinaria. Vi vengono finanziate che attraverso anche il sistema di detrazioni tutto il sistema è una scuola paritaria, quindi la scuola pubblica viene abbandonata a se stessa. Noi invece crediamo che si possano stabilizzare i più di 300.000 precari. Noi crediamo e abbiamo creduto, riuscendo a inserirlo anche nel 5 per 1000, nella riforma dell'edilizia scolastica, quindi poter intervenire in modo strutturale sulle strutture scolastiche per salvaguardare la sicurezza degli studenti e dei lavoratori che lavorano all'interno della scuola e quindi rilanciare il ruolo della scuola pubblica all'interno del paese.